Agna, ancora un assalto esplosivo ad un banco, matto dopo il boatto di tre notti fa. Vigonza è toccato ai residenti di Agna a venire svegliati nel cuore della notte. I banditi hanno posizionato una carica potente che ha fatto saltare in aria lo sportello dell'Unicredit di Via Roma, già preso di mira negli anni scorsi. I ladri però sono fuggiti a mani vuote, lasciando danni ingenti alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.